Covid-19 in Campania, 696 positivi su 16.215 tamponi, un deceduto. Ripetitore Tim, collocato in via Piemonte della Misericordia, a casa Micciola i cintanini costituiscono un comitato popolare, lotteremo fino a quando l'antenna non sarà rimossa. Giornata di protesta a casa Micciola, l'installazione dell'antenna però continua, i residenti non abbiamo alcuna garanzia sulla sicurezza dell'impianto. Truffe agli anziani, così Ischia è diventata terreno fertile per i delinquenti, prevenzione, assistenza sociale e repressione per debellare questo orrendo reato. Terminata la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato, attenti alle truffe. Il vicequistore Ferrara, siamo vicini alla gente, non commento il lavoro della magistratura ma noi comunque non ci fermiamo. Calcio, l'ischia sconfitta in amichevole contro il Giuliano, bene il primo tempo ma manca qualcosa, Iembolino è presto per fare valutazione. Inaugurato il club Rotary di Procida, nuvola a Tigù, l'intervento di Costantino Astarita e Giuseppe Nardito. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. Avete ascoltato i titoli di questa sera, un telegiornale oggi incentrato soprattutto su due grandi temi di giornata. Da una parte ciò che sta accadendo a Casa Micciola con l'antenna della TIM, le polemiche dei cittadini residenti. E poi l'altro tema, quello delle truffe agli anziani che non si fermano nonostante l'ultimo arresto dei carabinieri, nonostante la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato che proprio oggi è terminata e dunque c'è stata una conferenza stampa in cui si è fatto un importante punto della situazione. Parleremo ovviamente anche di altro, parleremo di sport con l'ischia calcio che quest'oggi seppur per una sfida non ufficiale è scesa per la prima volta in campo, la nuova ischia di mister Angelo Iervolino e non mancheranno anche altri servizi. Iniziamo però sempre dal Covid con il bollettino diffuso dall'unità di crisi della regione Campania, questi dati sul contagio. Ancora in aumento l'incidenza di nuovi casi rispetto ai tamponi analizzati, 696 su 16.215 tamponi in calo, i deceduti, un solo deceduto, nelle ultime 48 ore, un deceduto poi si aggiunge in precedenza ma registrato soltanto ieri. Un leggero aumento dei posti letto di terapia intensiva, una unità si passa da 20 a 21 posti occupati su 656, tornano invece ad aumentare i posti letto di degenza occupati, 361 sui 3.160 disponibili. Nel frattempo domani sarà il giorno in cui tireremo le somme per la situazione Covid anche sull'isola di Ischia, per il momento non sembrano esserci criticità, soprattutto all'ospedale Rizzoli si è un po' rallentato il ritmo dei ricoveri, ma avremo modo di approfondire questo tema nel corso del telegiornale di domani, durante il quale andremo a rendere pubblici e appunto a fare la conta di quelli che sono tutti i numeri sul Covid che riguardano ovviamente direttamente l'isola di Ischia. In apertura però parliamo di ciò che sta accadendo a Casamicciola, dove continua a tenere banco ed alimentare polemiche l'improvvisa installazione di un ripetitore team in via Piemonte della Misericordia. Dopo il sequestro dell'area da parte del sindaco Castagna, resovano dalla pronuncia del Tar Campania, che ha abilitato di fatto la compagnia di telefonia mobile nel proseguire i lavori, ieri il responsabile dell'area tecnica del comune di Casamicciola, Mimo Baldino, ha comunicato alle parti interessate di aver disposto la sospensione fino all'esecuzione dei saggi e degli accertamenti previsti nell'area di cantiere di qualsiasi attività edilizia o similare presso la zona interessata dall'installazione dell'antenna. Intanto i cittadini hanno costituito in queste ore un comitato di lotta affinché il ripetitore venga rimosso. Vediamo il servizio realizzato da Gennaro Savio in cui facciamo il punto della situazione. A Casamicciola continua a serpeggiare rabbia e preoccupazione tra i cittadini residenti in via Piemonte della Misericordia, che nei giorni scorsi all'improvviso si sono visti spuntare accanto alle proprie case un enorme ripetitore mobile della Timma. Si tratta di un ripetitore talmente alto che non solo supera le case, ma persino i palazzi che si trovano sulla collina del Paradisiello. Dopo il sequestro della struttura operato dal comune, nei giorni scorsi il TAR ha raccolto il ricorso della potente compagnia di telefonia mobile, riabilitandola a procedere nell'installazione. Ma in queste ore, in zona lava, non è passata inosservata la continua presenza dei tecnici comunali. Un andi rivieni che dimostra il tire molla tra il comune, che sembrerebbe deciso a percorrere ogni strada possibile per far rimuovere l'antenna e i responsabili della compagnia telefonica, che forti della sentenza del TAR a loro favore vorrebbero precedere nell'installazione. Ma il colpo di scena dell'ultima ora è rappresentato da una disposizione del responsabile dell'area tecnica del comune di Casamicciola, dottor Mimmo Baldino, il quale ha comunicato alle parti interessate di aver disposto la sospensione, fino all'esecuzione dei saggi e degli accertamenti previsti nell'area di cantiere, di qualsiasi attività, edilizie o similare, presso la zona interessata dall'installazione dell'antenna. Intanto, nonostante i proclami del sindaco Gioan Battista Castagna, il sequestro effettuato dal comune resovano dalla pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale, i cittadini, memori di esperienze passate, che approcide in altri comuni delle isoladischi alla fine hanno sempre visto prevalere le ragioni dei colossi internazionali della telefonia mobile, sono sul piede di guerra e non sono disposti a fare un solo passo indietro rispetto all'unico obiettivo che si sono prefissati di raggiungere, e cioè quello di vedere rimosso il ripetitore da fuori ai balconi delle loro case, visto che già da sempre devono fare i conti con il rischio sismico e quello idrogeologico. E a tal proposito è stato costituito un comitato di lotta popolare che avrà il compito di organizzare iniziative tese a spingere l'amministrazione comunale a trovare quanto prima una soluzione politica affinché il ripetitore venga definitivamente rimosso. E quella della lotta di piazza rappresenta l'unica possibilità e speranza che la cittadinanza ha per far prevalere le proprie ragioni. E come detto da stamattina a Casamicciola i residenti di Via Pio Monte della Misericordia stanno presidiando la proprietà dove insiste l'installazione dell'antenna team oggetto di polemiche, ci sono state proteste, non sono mancati momenti di tensione nel corso delle ultime ore. Abbiamo chiesto ai residenti quali sono le motivazioni della protesta e soprattutto quali risposte si aspettano e da chi. Ad oggi infatti il TAR ha dato ragione alla team come abbiamo spiegato prima. Sentiamo questa testimonianza, sul web poi pubblicheremo anche altre voci raccolte a Casamicciola. Allora siamo a Casamicciola per un nuovo aggiornamento, continua la protesta, signora che cosa è successo? Siamo da stamattina che stiamo protestando con un gruppo di cittadini residenti della zona e praticamente nonostante ci sia stato l'intervento dell'ambilistrazione, del sindaco in prima persona e dei vigili e dei carabinieri insomma sono riusciti come si vede dall'immagine ad installare quelle che sono le antenne. Certo non sono state ancora attivate, il lavoro non è finito ma gran parte del lavoro è stato portato a qualche antenne. Non c'è stato, nonostante la ricerca, la lettura delle carte, di tutto non c'è stato nessun tipo di cavillo che sia stato possibile trovare per poterli fermare. La situazione è stata piuttosto forte, stamattina si sono sentite anche parole piuttosto forti, pesanti, grida però alla fine della giornata ci siamo comunque trovati nonostante le nostre manifestazioni pacifiche ci siamo trovati ormai montate le antenne. Signora, quali sono le vostre richieste e le vostre paure? Dato che la documentazione è a posto quindi significa che non è qualcosa di illegale quindi qual è il problema? Allora, chi ha verificato la documentazione? Lei è in grado di, come semplice cittadino anche se faccio l'acquisizione degli atti e come io stesso ho già richiesto e ho fatto come ha detto anche nel suo telegiornale ho fatto degli esposti documentandomi ma siamo in grado noi di poter dire se tutto è a posto loro tolgono e loro messono, loro dirigono la baracca chi altro lo può sapere? Certamente lo mio, io non ho la competenza L'amministrazione che cosa vi ha detto? Che potrebbe ovviamente controllare in qualche modo? Io non lo so se questo l'hanno controllato intanto sta di fatto che noi non sappiamo neppure la potenza di questa a tutt'oggi noi cittadini che ci lamentiamo non conosciamo neppure la potenza di questa struttura ovviamente io parlo da profana perché io non è questo il mio lavoro io non sono un addetta ai lavori io mi sono come cittadina che si è trovata all'improvviso coinvolta in una situazione più grande di lei mi sono andata un attimo a documentare ma certamente non ho la competenza potrei dire anche delle sciocchezze ma io non so come tutti i cittadini presenti qual è la potenza di queste antenne oltretutto non sappiamo perché leggendomi le carte io leggo che loro non parlano di 5G ma certamente parlano anche della sperimentazione di attuare anche altre tecnologie questo mi fa pensare come cittadino come cittadino pensante mi fa pensare molto perché che significa altre tecnologie e non specificarle ne hanno specificate due adesso non me ne ricordo perché non ho le carte a portata di mano ma nella terza hanno detto questo quindi siamo nelle loro mani intanto si sono avvarsi dell'articolo 87 quater per dire che è una situazione di urgenza e che quindi non c'era bisogno né per l'urgenza e né per altro non c'era bisogno neppure di avere la scia ora questa famosa scia che prima c'era poi non c'era poi gli stessi avvocati amministrativisti che li hanno difesi parlo della team hanno detto che addirittura l'87 quater dice che non era necessario nessuna scia ma allora la scia c'era o non c'era? io questo da semplice cittadino non lo so ne ne capisco onestamente cambiamo argomento restiamo comunque nell'attualità sono tantissime le truffe eseguite sull'isola d'Ischia danno soprattutto di anziani dal finto corriere al finto maresciallo ai nipoti in difficoltà delinquenti della terraferma agiscono probabilmente con il supporto di una cellula ischitana che fornisce l'elenco e le informazioni delle potenziali vittime l'importanza della prevenzione dell'informazione ma anche quella dell'assistenza sociale agli anziani e soprattutto un'attività imponente di repressione potrebbero debellare definitivamente questo orrendo reato il servizio fanno ancora paura le truffe agli anziani sull'isola d'Ischia negli ultimi mesi e in particolare nel periodo estivo si sono consumate diverse truffe a persone anziane seguendo diverse modalità di azione quella del corriere che deve essere pagato per la consegna di un pacco importante quella del maresciallo dei carabinieri che chiede soldi per la scarcerazione di un proprio parente oppure richieste di danaro per salvare nipoti e o parenti ricoverati in ospedale lo scopo dei malfattori e far leva sulla generosità e sul cuore grande di quelle persone che per anni hanno vissuto con le porte delle proprie case aperte ma che oggi devono fare i conti con una criminalità che per quanto ridotta rispetto alla terraferma è purtroppo presente anche sull'isola d'Ischia e non si tratta solo di rubare piccole cifre anzi negli ultimi casi in cui sono stati sottratti per ciascuna truffa circa 15.000 euro e gioielli si parla davvero di cifre importanti risparmi di una vita tenuti purtroppo imprudentemente conservati in casa ed è qui che emerge la prima debolezza le famiglie e i parenti delle persone anziane oltre ad essere più vigili e presenti potrebbero e dovrebbero spingere gli anziani a non conservare cifre così importanti sotto la mattonella di casa ci sono poi i casi di anziani soli di cui necessariamente deve farsi carico lo Stato prima delle forze dell'ordine le istituzioni che operano in ambito sociale monitorando la presenza di soggetti deboli sul proprio territorio cercare di seguirli e soprattutto informarli questi spunti sono emersi anche nel corso della conferenza stampa tenutasi giovedì mattina al centro papa Francesco di Ischia durante la quale la polizia di Stato guidata dal vicequestore Maria Antonietta Ferrara ha tirato le somme al termine della campagna di sensibilizzazione nei vari comuni isolani insieme alla polizia la collaborazione della Caritas e della cooperativa Arche realtà che possono mettere a disposizione le proprie informazioni le proprie reti di collegamento sul territorio è stata un'esperienza importante quella fortemente evoluta dalla dottoressa Ferrara nonostante il periodo estivo e caldo perché non solo è stata svolta un'attività di informazione ad anziani e cittadini in generale ma si sono accesi anche i riflettori su un fenomeno che per quanto diffuso sul territorio isolano non trovava la giusta attenzione nel dibattito pubblico a fianco alle iniziative di prevenzione che come ha sottolineato la Ferrara spesso sono più incisive della repressione nel debellare il reato è anche vero che non ci si può non dedicare ad un'attenta attività di indagine che porti a scoprire l'identità di questi delinquenti in quest'ottica è stato fondamentale l'arresto nei giorni scorsi operato dai carabinieri di Ischia che si aggiunge all'arresto di Procida non è un punto di arrivo ma un punto di partenza perché se è vero che gli arrestati non sono residenti sull'isola necessariamente ad Ischia c'è una cellula che ha il compito di individuare i soggetti più vulnerabili che magari hanno cifre importanti in casa e soprattutto un'organizzazione rigorosamente ischitana che deve reperire le informazioni necessarie per presentarsi in maniera credibile a cospetto della vittima prevenzione e repressione sono due cose che devono camminare insieme parallelamente perché di sicuro è necessario e per nulla scontato dover invitare gli anziani a non aprire la porta a persone non conosciute a non dare mai soldi o gioielli ad allertare il 112 o allertare dal proprio telefono i parenti di quelle che sono le richieste di danaro ma è anche vero che qualcuno deve andare necessariamente in carcere tenere l'attenzione alta per poi magari contribuire a denunciare un tentativo di truffa che magari può aprire una pista per l'attività investigativa delle forze dell'ordine che senza il supporto dei servizi sociali rischiano di rincorrere il fenomeno perché poi non è solo il danno economico ma anche quello psichico che segue immediatamente dopo e il caso di anziani truffati che non vogliono più uscire di casa per paura e vergogna ne è purtroppo una triste prova oggi possiamo dire che Ischi è vigile su questi fenomeni nella speranza che le luci non si spengano più e che invece si arrivi a distruggere i responsabili per i quali però la legge concede molti sconti ma questa è un'altra storia stamattina al centro Papa Francesco si è tenuta la conferenza stampa a conclusione della campagna di sensibilizzazione attenti alle truffe organizzata dalla Polizia di Stato in particolare dal vicequestore Maria Antonietta Ferrara la quale ha tracciato un bilancio di questo vero e proprio tour nelle piazze isolane alla Ferrara abbiamo poi chiesto un commento su quella che è la mancanza di pene severe per chi commette questi reati non commentiamo il lavoro della magistratura e la legge è legge questo però non significa che dobbiamo fermarci ha dichiarato la dottoressa ascoltiamo di tutto lo devo dire io a voi e non voi a me perché il nostro motto esserci sempre tra la gente è il motto che ci tiene uniti che ci dà la forza noi abbiamo fatto prevenzione e la prevenzione è più importante della repressione perché sicuramente con la prevenzione abbiamo debellato quello che è il fenomeno di questo reato che fa male agli anziani perché colpisce la fascia debole loro sono indifesi e noi abbiamo cercato di prevenirlo questo reato ci abbiamo messo a tutta siamo stati tra la gente non ci siamo messi su di un piedistallo abbiamo stretto le mani abbiamo parlato con loro abbiamo spiegato nei minimi particolari che cosa potesse essere questo reato non aprire la porta non fare bonifici addirittura le ultime giornate ci hanno fatto capire che ci sono tanti raggiri che queste persone fanno e a volte anche questi anziani hanno dato qualcosa in più a noi quel kid blu magari che ci mancava ce l'hanno insegnato perché il modo superare non è sempre uguale è diverso da zona a zona quindi ci hanno spiegato che per esempio anche chi aggiusta l'interruttore voleva truffare la caldaia si era rotta ed era un truffatore quindi anche loro ci hanno insegnato delle piccole chicche per poter debellare questo reato la vicinanza tra la gente e il nostro motto e l'esserci sempre è stata una sensazione bellissima il poter stringerci nelle piazze incontrare i sindaci incontrare la gente si sono sentiti protetti sono state fatte anche delle operazioni anche da altre forze dell'ordine ma è importante perché la prevenzione a volte supera la repressione noi siamo contenti io sono contenta e sono felice questa iniziativa nata da un'idea perché un continuo susseguirsi di denunce nel nostro ufficio di truffe agli anziani fece scattare un giorno una mola i temani devono essere aiutati noi siamo tra la gente viviamo per la gente e quindi noi ci dobbiamo sacrificare non è stato semplice organizzare le piazze incontrare i sindaci incontrare le persone ma l'abbiamo fatto con tutto il cuore perché la polizia è il cuore di tutti i cittadini dottoressa rispetto anche all'ultima operazione che c'è stata un arresto delle altre forze dell'ordine poi è emerso che nel concreto insomma per quello che prevede la legge queste persone poi sono ritornate a casa quanto per certi versi insomma è anche scoraggiante per voi sforzarvi di riuscire a trovare queste persone che poi magari possono tornare in libertà e ritornare a fare quello che facevano prima non giudico l'operanza della magistratura è una legge sono in libertà ma la vicinanza è importante lo sforzo che i colleghi hanno fatto è uno sforzo notevole che mette in evidenza che noi siamo sul territorio siamo sul pezzo quindi noi ci siamo tra la gente e la magistratura che libera subito dopo ma queste legge e la polizia o il carabiniero o la finanza non possono cambiare ma siamo contenti lo stesso perché è un segnale molto forte passiamo allo sport il calcio prima uscita non ufficiale per l'ischia di mister Iervolino oggi al Mazzela si è tenuto l'allenamento congiunto con il Giuliano con Pagine che parteciperà al campionato di serie D 2 a 0 il risultato finale in favore degli ospiti messi in difficoltà dall'ischia nei primi 45 minuti terminati sullo 0 a 0 nel secondo tempo però un po' per gli ingressi in campo importanti tra le fila napoletane un po' per demeriti dell'ischia non si è vista una bella prova al termine del match ai nostri microfoni mister Iervolino ha commentato la gara dicendosi soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi e che comunque è passato troppo poco tempo dall'inizio degli allenamenti per fare una valutazione completa l'intervista per 60 minuti abbiamo fatto una bellissima partita contro una squadra importante importante una squadra che lotta per il titolo nel suo girone e quindi c'è da dare ovviamente dei meriti a questi ragazzi c'è da secondo me da fare delle differenze sulle sconfitte ci sono sconfitte che ti lasciano la mare in bocca sconfitte che ti magari ti illudono e invece sconfitte che ti lasciano delle note positive questo è uno di quelli là dove ti lasciano delle note positive nel secondo tempo ovviamente si è vista una partita diversa non c'è stata partita perché loro hanno cambiato hanno messo insomma hanno alzato il livello o anche per i cambi comunque che hai fatto tu hai cambiato tanto no vabbè loro sicuramente quando cambiano cambiano di qualità quindi non è cioè è una cosa normale noi abbiamo cambiato tanto più che diciamo parliamo di qualità o meno rispetto a loro non abbiamo cambiato tanto noi abbiamo portato 27 ragazzi tutti quanti per partecipare appunto alla gara chi più e chi meno per dare minutaggio un po' a tutti tra under e over e capire un attimino come poterci giostrare per il proseguo della nostra avventura tutto qua hai avuto modo di provare per la prima volta sul campo il famoso falso a neve chiamiamolo come vogliamo insomma l'attaccante può essere filosa in questo modo con questo tipo di gioco per tutto il campionato in attesa di capire che cosa succede con Arcamone beh per tutto il campionato questo non possiamo dirlo ma sicuramente è una soluzione è una soluzione che è piaciuta che piace abbiamo tanta mobilità là davanti abbiamo tante combinazioni con Castagna con Gigio Igram ha fatto bene dall'altro lato e quindi c'è da valorizzare questa soluzione è ovvio che poi dopo alla fine cerchi anche di fare altre soluzioni poi a me è piaciuta a me è piaciuta tantissimo la fase di aggressione che abbiamo attuato nei loro confronti quindi loro hanno giocato il primo tempo male sostanzialmente perché noi li inducevamo a fare delle cose sbagliate e penso che in 3-4 occasioni siamo andati anche vicino al gol come anche loro quindi è stata una bella partita i primi 60 minuti ma loro volevano quello loro volevano giocare volevano divertirsi volevano essere al centro del progetto è un qualcosa che a me piace è un qualcosa che secondo me l'allenatore deve lasciare ai giocatori a prescindere dai risultati sportivi i giocatori e la società hanno bisogno di qualcosa che possa restare loro nel tempo e credo che sia siamo sulla strada giusta è ovvio 3 settimane non possiamo assolutamente tracciare nulla secondo me è pressoché prestissimo io direvo forse ancora niente da dire però è la strada secondo me da percorrere appunto per lasciare qualcosa sia a loro che alla società stessa in conclusione del nostro DG ci spostiamo a Procida dove è stato inaugurato il nuovo club Rotary a Nuvola TV l'intervento di Costantino Astarita e Giuseppe Nardini sentiamo giornata importante per l'isola di Procida siamo col governatore Costantino Astarita governatore allora che cosa significa la nascita per meglio dire la consegna della carta al club Rotary Isola di Procida l'isola di Procida a lunghe tradizioni a lunga cultura a lunga storia è stata nominata per il 2022 capitale della cultura non poteva non avere un club Rotary un club Rotary che è stato creato oggi con 24 validissimi professionisti professioni varie veramente un gruppo di persone che si adopererà per migliorare le nostre comunità secondo il mio motto e di servire per cambiare vite secondo il motto del nostro presidente internazionale che è Shekarmeta un indiano di Calcutta governatore ha ricordato quante volte sia stato tentato questo esperimento che finalmente è riuscito ci vuole ricordare un po' perché è una delle cose che mi ha incuriosito di più del suo bel discorso ma noi voi sapete quest'anno è il primo anno che il distretto Campania sostanzialmente il 2101 che io sono il rappresentante quest'anno per il primo anno si è separato dalla Calabria una striscia tirrenica della Basilicata probabilmente prima non c'era la motivazione e la determinazione giusta per fare questo nel momento in cui noi avevamo un distretto solo campano e avevamo un club su Ischia un club su Capri un club in Pesola Sorrentina perché non dovevamo avere un club su Procida un'isola dalle profonde tradizioni che io conosco non da ora che ha dato Natali a importantissimi marittimi con un istituto nautico che è stato sempre una delle perle della formazione marittima della nostra comunità quindi Procida meritava sicuramente un club e oggi è stato realizzato per fortuna cosa può dare Procida a Rotary e cosa può dare Rotary al Procida? Beh Procida a Rotary naturalmente dà una visibilità unica perché voi capirete ormai Procida al centro io vi raccomando solo una cosa non perdete la vostra identità una volta passata questa sbornia meravigliosa bellissima che vi proietterà un sano sviluppo che questo sviluppo sia sostenibile e soprattutto non vi faccia perdere la vostra identità identità di un'isola con le sue tradizioni con la sua storia con la sua cultura con i suoi professionisti che è stata sempre un po' diversa rispetto al mondo di Capri e a quello di Ischia quindi evviva abbiamo un club Rotary evviva avremo Procida al centro di tutto nell'anno che verrà e già lo è adesso ma manteniamo le nostre tradizioni le nostre radici e quindi non perdiamo la nostra identità Presidente del Rotary del neocostituito Club Rotary di Procida Giuseppe Nardini eccolo lì il gagliardetto Flavio inquadracelo perché siamo tutti curiosi e fieri di questa iniziativa e ce ne la racconta il suo Presidente e la raccontiamo attraverso questa immagine che non è l'immagine più nota di Procida che è quella della Coricella bellissima è un frammento un dettaglio del Vascello che è un luogo che per chi non è procidano non è proprio il più conosciuto ma a noi ecco questo è anche un po' il senso di questa presenza a Procida quella di portare le persone a conoscere il cuore di questa realtà e i colori non sono i colori del piano colori delle facciate di Procida ma sono i colori del Rotary e niente proprio per rappresentare la nostra presenza presenza di persone che vogliono essere attive per la comunità che tipo di apporto state preparando soprattutto in virtù di questa grande occasione che è Procida Capitale della Cultura il Governatore ci parlava già di alcune iniziative in cantiere noi portiamo alcune idee che sono maturate dentro il Rotary ma che noi abbiamo fatto noi club di Procida abbiamo fatto nostre due assi principali di interesse la valorizzazione dei beni culturali e la tutela ambientale per la valorizzazione i primi due progetti sono il restauro della statua di San Michele e l'idea di costruire una guida smart come si dice oggi pensata più per il viaggiatore che per il turista di consumo cioè portarlo a conoscere anzi portare le persone a conoscere Procida attraverso il nostro simbolo che sarà quello del logo per conoscere quelle aree meno conosciute meno note più pensiamo a persone che abbiano curiosità e l'altra invece è la tutela ambientale il progetto mare senza plastica che vedrà Procida proprio come il fulcro di tutta l'azione del distretto il distretto è il nostro raggruppamento che prende tutta la campagna Presidente ci salutiamo con una battuta che cosa augura il club e che tipo di appunto di auspicio può esprimere nei confronti di questa iniziativa che ha già tanto successo nel mondo il mio auspicio è quello di riuscire anzi di continuare a sognare di riuscire a trasformare questi sogni in idee e quindi poi azione rivolti alla comunità prima di salutarci come sempre uno sguardo alle previsioni meteo ben trovati da Nicoschiadetto previsione per la giornata di venerdì intanto a livello europeo possiamo osservare un anticiclone che terrà nei prossimi giorni i suoi massimi molto a nord sulle isole britanniche fin verso il nord atlantico mentre una circolazione di bassa pressione è posizionata sull'Europa centro orientale con clima fresco qui per il periodo andiamo a vedere gli sviluppi di fatti sull'Italia perché sarà una giornata ancora instabile durante la mattinata sul nord est con le ultime piogge sul Veneto basso frio di Venezia Giulia poi migliora rapidamente ma soprattutto i temporali che si formeranno sull'Emilia Romagna e osservate durante il pomeriggio anche regioni centrali tra Toscana Umbria aree interne di Lazio e Marche sulle Marche rovesci anche intensi all'assù invece una giornata più tranquilla con quindi sole protagonista ma temperature diffusamente sotto i 30-32 gradi dettagli e ulteriori approfondimenti sull'app di Trapi Meteo è tutto per stasera con il TG News ci rivediamo domani alle 20.30 al termine di questo telegiornale tra poco potrete rivedere in differita il match andato in scena oggi al Mazzella tra Ischia e Giuliano grazie per essere stati con noi anche stasera vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie a tutti